Dopo aver completato la limatura strutturale, procedo con uno shade realizzato con Blue Glimmer Semi Permanente. Ottengo l'effetto finale sfumato con due stesure, polimerizzando tra una e l'altra. Sigillo il trattamento con Magic Shine e poi procedo con il decoro in superficie. Per realizzare il decoro tridimensionale, utilizzo plastilina e pennello punta fine in setola naturale. Non perderti tutti i nostri tutorial iscrivendoti al nostro canale YouTube Le Unghie di Micole. Se vuoi vedere passo a passo con spiegazione come hai realizzato questa struttura con correzione del difetto naturale, seguimi su Instagram, Micole-Passanisi. Per approfondire tutti gli argomenti che riguardano la ricostruzione unghie da salone, puoi leggere il mio manuale La ricostruzione unghie secondo Micole, in vendita su Amazon. Per confrontarti con tante altre ragazze, iscriviti al nostro gruppo chiuso di Facebook Le Unghie di Micole. Con colla Gel Fix garantisco la durata delle mie applicazioni in superficie. Tutti i prodotti visti in questo video sono disponibili sul nostro sito www.leunghiedimicole.com Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un like e condividerlo. Grazie, a presto!